Che cos'è che ti fa sentire un uomo? Il tuo abito migliore? O magari il tuo calzino porta fortuna? Le piccole cose che hai scelto per te? O quelle che hai scelto per le tue passioni? Il tuo ferro? Le tue mani forti? La tua barba? O la tua virilità? Cosa mi fa sentire un uomo? Cosa mi fa sentire un uomo? Beh, mi fa sentire un uomo, avere la barba, avere la grinta Io avere un amico così, uomo? I baffi e la pipa! Essere qui con tutti gli amici! Cosa mi fa sentire un uomo? La moto! Andare in moto! Oggi soprattutto essere un biker! La libertà di poter fare alcune delle piccole cose che ci piacciono La moto! Andare sempre in moto fino a 150 anni Moto! Moto! Viaggiare libero in moto, sempre! E' veramente difficile come domanda! Cosa ti fa sentire un uomo? Buongiorno! La libertà di poter fare un uomo! No! Poi! Do nuovo! mi sento un uomo andando in moto oggi è il cameratismo, se così si può dire, di queste mille moto tutte unite per la giusta causa il filter, oh yeah ecco, bravo, mi fa sentire uomo quando metto la prima calza prima di partire senti quel tac, questo fa sentire uomo grazie